La scorsa puntata abbiamo trattato il tema dell'importanza dell'olfatto nel cane che abbiamo capito è un senso sviluppato all'ennesima potenza nel nostro amico pet e c'è però ovviamente un altro senso importantissimo e fondamentale ed è il tatto ovviamente serve come funzione conoscitiva del mondo per esplorare il mondo però è anche soprattutto vitale soprattutto nel momento in cui si nasce e quindi nasce il nostro cucciolo di animale quindi capiamo un po' meglio di questo mondo sensoriale del cane perché è così importante il tatto e quale funzione svolge nel cane sin dalla nascita? Allora intanto il tatto per tutti, quindi anche per noi, è sentire con la propria pelle il mondo che ci circonda nel cane oltre alla pelle abbiamo i peli, i coscienti plantari, abbiamo le vibrisse quindi ha un po' più di struttura rispetto a noi e proprio si percepisce il mondo e percependo il mondo in questo modo il cane ha consapevolezza di sé e del mondo che lo circonda e quindi apprende quindi il tatto è un mezzo di apprendimento e anche di autorassicurazione nel cucciolo nella prima fase è l'unico senso che ha innato cioè alla nascita è già presente svolge una posizione importantissima perché c'è l'indirizzo termotattico del cucciolo verso fonti calde per mantenere la termoregolazione in quanto non è autonomo e quindi questa funzione serve per la sopravvivenza perché va sulle fonti calde e quindi verso la mamma quindi che è un corpo caldo successivamente nel cucciolo è anche qui la percezione del attraverso che è l'unico senso che funziona perché il gusto e l'olfatto arrivano circa una settimana l'udito e l'occhio entro un mese si sviluppano bene quindi chiaramente inizialmente è sordio e cieco e non sente odori e non sente sapori quindi ovviamente è l'unico modo per percepire il mondo intorno a sé ed è un'esperienza che nel cucciolo non deve essere traumatica ed è presente anche in utero addirittura è presente anche in utero quindi chiaramente è il primo metodo di apprendimento in più le cure parentali quindi significa il fatto che la mamma lo pulisce, lo accudisce eccetera anche qui aumentano la conoscenza di sé e della percezione del mondo che lo circonda quindi è fondamentale assolutamente fondamentale quindi l'ha già anche detto un pochino prima però dove sono i recettori nel corpo del cane? i recettori si dividono in tre categorie quindi sono i nocicettori cioè i recettori del dolore che sono presenti su tutta la pelle poi abbiamo le vibrisse che sono presenti soprattutto su occhi, muso e anche su alcuni soggetti anche nei polsi quindi attenzione alle tosature aggressive perché tolgono queste importanti situazioni e poi abbiamo due tipi di recettori recettori quelli a rapido adattamento e sono i propri recettori quelli che percepiscono le variazioni ambientali e subito si autoregolano fanno autoregolare il cane per la posizione del corpo nello spazio le percezioni della temperatura, umidità eccetera e poi ci sono quelli di lento adattamento che sono quelli che noi utilizziamo quando facciamo le coccole e quindi quando i cani si fanno le coccole perché sono a lenta attivazione e quindi rilassano il cane è una sorta anche di appagamento emotivo e di comunicazione affettiva esatto, proprio lì volevo andare a proposito di comunicazione, svolgono anche questa funzione sia con noi che con specifici? sì, allora voi considerate che il tratto, cioè sentire il mondo attraverso la pelle e il pelo è un processo di apprendimento quindi non è, ci sono le strutture innate ma poi il processo di apprendimento quindi come noi evolviamo in questa comunicazione ci rende più comunicativi o meno quindi è ovvio che è fondamentale che questo sviluppo sia omogeneo e senza traumi perché ci sono delle situazioni in cui alcune zone che sono a lento adattivazione perché sono piacevoli per varie situazioni patologiche a volte diventano invece nocicettive per esempio il bordo delle orecchie è una zona dove il cane si rilassa molto se viene accarezzato in caso di otite diventa una zona di algia la coda per esempio è una zona dove non è a lento adattamento quindi è bene non toccare la coda e invece la stimolazione tattile quindi è utile anche forse nella correzione di disturbi comportamentali? allora diciamo se, innanzitutto nel cucciolo è fondamentale quindi è chiaro che se durante la fase perinatale non ha avuto delle buone cure parentali dobbiamo noi entrare con una buona manipolazione a insegnare al cucciolo a percepire se stesso attraverso il tasso e il tatto e il mondo attraverso una corretta manipolazione e quindi significa che il cane diventa capace di sopportare meglio gli stress di adattarsi meglio alle modificazioni successivamente è chiaro che il tatto se noi sfruttiamo la parte rilassante possiamo intervenire proprio su situazioni di ansia, di stress, di paura eccetera tant'è che ci sono delle metodologie ultimamente che sono state sviluppate come la Dallington Touch che aiutano proprio in questo utilizzando le manipolazioni tattili o a mano con fasciature o con anche mezzi di contatto strumentale servono proprio per reeducare il cane alla percezione di sé e del mondo esterno e quindi anche di rilassarsi e di affrontare le proprie parologie comportamentali come l'ansia, lo stress, la paura e anche poi recuperare le zone algiche per farle ritornare in situazioni che non sono negative come sensazione per esempio le orecchie dopo notite o la pelle in zone del dorso per le dermatite eccetera, piotermite e così via grazie mille dottore